ciao a tutti e bentornati sul mio canale un altro video un'altra volta per parlarvi di Honey Thunder God's Tale una nuova serie animata Netflix che ci omaggia con una qualità visiva che solo in poche altre situazioni abbiamo potuto ammirare in così tanto splendore e in così tanta magnificenza lo so è una sorta di spoiler questa prefazione cioè il parlarvi di Honey con così tanta enfasi vi farà capire ovviamente che il mio giudizio sarà positivo ma a volte come è già capitato per esempio con la leggenda di Yei è inevitabile far presente che la magnificenza si sta mostrando in ogni suo aspetto in un prodotto che veramente colmerà gli animi più cupi quindi dicevamo che The Honey la leggenda del Dio del Tuono è un prodotto della Tonko House Tonko House che già nel 2018 fu candidata all'Oscar per The Dung Keeper un prodotto che a mio avviso non raggiunge la magnificenza di Honey ma sono ovviamente dei meri punti di vista perché ricordiamoci non siamo noi dei critici d'arte siamo semplicemente non sono io soprattutto un critico d'arte ma semplicemente una persona che si cimenta in recensioni bizzarre per cercare di stare un po' di tempo insieme comunque Honey Thunder's God Tale è ambientato in un mondo che è popolato dalle creature del folclore giapponese e racconta la storia di Onari la piccola figlia dello spirito del tuono i poteri della ragazza non si sono ancora manifestati mentre si avvicina il momento in cui la luna demoniaca farà tornare al vignaggio gli Oni le creature che minacciano il villaggio che minacciano l'idea è che già in passato hanno distrutto e devastato altri villaggi lo sanno bene il dio della tempesta e due del tuono che sono sfuggiti all'ultima devastazione da parte degli Oni ma questa è un'altra storia e noi non possiamo fare a meno o almeno io non posso fare a meno di dividermi tra quello che mi è piaciuto e quello che non mi è piaciuto a voi l'ardua sentenza di valutare Honey un prodotto Honey Thunder's God Tale un prodotto che a mio avviso della Tonko House merita un bel po' di rispetto che cosa è piaciuto di Honey Thunder's God Tale è molto semplice in questo caso non c'è sicuramente nulla di più semplice di dire che cosa è piaciuto di un prodotto che ci offre tanta magnificenza Honey Thunder's God Tale è sicuramente bello perché ci offre una qualità grafica indiscussa dove colori variegati, variopinti vanno a colorare vanno a disegnare un paesaggio magico ambientato tra le figure mitologiche giapponesi quindi troviamo personaggi singolari personaggi del folklore che vanno a popolare questo mondo questo mondo incantato dove i colori fatti con una certa sapienza con una certa maestosità con una ricerca dell'arte estrema ci attragano fin dal primo momento perché è così è inevitabile sarebbe innegabile ammettere che dalle prime fotogrammi nonostante la qualità dei personaggi grafica non attraga cioè tu vai a vedere Honey dal punto di vista del trailer mi ha finito ma che grafica è? fa cagare scusate la franchezza è quello che ha detto guardando il trailer poi ha detto ma guardiamolo e si vede subito che il paesaggio è di una qualità assoluta le variazioni cromatiche che incontriamo che passano dal colore del villaggio all'oscurità quasi di quello che c'è dopo il ponte effettivamente hanno un contrasto che rende con la storia rende la vita di questa bimba Onari che poi è divisa tra due mondi quindi indubbiamente il paesaggio e le variazioni cromatiche che vanno a comporre il mondo sono qualcosa che mi è piaciuto mi è piaciuto la qualità grafica generale cioè la texture grafica che viene utilizzata per creare questo mondo dove simpatici bamboccioni o bamboccetti si vanno poi a intersecare con sapienza in quello che è un paesaggio lo ribadisco mastodontico mi è piaciuto molto mi è piaciuta la storia la storia perché la storia che va a descriverci una ragazza coraggiosa che cerca in tutti i modi di combattere contro il pericolo che arriva dall'ignoto il pericolo che arriva da lontano che arriva dalle leggende il pericolo che forse è dentro di noi mostra un coraggio un coraggio effettivo che va oltre la speranza o l'abbandono di essa va oltre le sensazioni personali è un coraggio che arriva dal profondo un coraggio forse dalla fanciullezza contro un nemico che è più grande che è più forte di ogni nemico o più forte di ogni individuo perché stiamo parlando della paura stiamo parlando dell'essere umano stiamo parlando della distruzione del mondo che ci appartiene quindi in fin dei conti va a toccare con leggerezza temi profondi che dovrebbero riguardare tutti quindi la storia è infinitamente profonda perché ci fa capire che la paura governa il mondo e che l'uomo la padroneggia con poca sapienza e che quindi è vittima della paura è succube della paura e per la paura oltre che per aggiungo io l'ignoranza sta devastando un mondo che una volta probabilmente era più magico di quello che non è oggi quindi la storia è sicuramente profonda è sicuramente di grande intrattenimento nonostante le quattro puntate e effettivamente merita in un prodotto dalla mastodontica capienza capienza intendo dire che è un prodotto effettivamente che non si esaurisce nelle puntate stesse ma va almeno per chi è uno spettatore attento va a confondersi con l'ideologia comune va nell'introspezione personale porta lo spettatore a a porsi più di una domanda una domanda che a volte potrebbe essere una domanda generazionale oppure una domanda fisiologica oppure una domanda introspettiva tipo perché succede questo cosa potremmo fare domande insomma che fanno parte della paura umana e dell'essere umano stesso la storia la storia è sicuramente bella la costruzione dei personaggi la costruzione dei personaggi passando da Onari arrivando fino al 2 del tuono della tempesta e da tutti i personaggi che sono di contorno in questa storia magica è solida ogni personaggio è ben strutturato nulla viene lasciato al caso dall'antagonista al protagonista o dagli antagonisti e protagonisti passando per queste figure mitologiche simpatiche tutto è costruito col giusto mix anche quando l'essere umano ci viene mostrato poi l'essere umano come una delle forme del male attraverso le città di cemento attraverso la distruzione che viene fatta delle foreste governando e cavalcando draghi meccanici o mostri meccanici anche in questo caso la costruzione dei personaggi rimane solida anche quando vengono catturati dalla paura la costruzione dei personaggi rimane solida e la costruzione dei personaggi in una storia diciamo che è una buona parte una buona fetta di importanza perché senza la storia non avremmo poi un prodotto solido e in questo caso i personaggi ci offrono veramente un prodotto solido scusate deve essere passata mia moglie se l'avete vista questo è tanto siamo in casa non c'è niente di particolare che fra l'altro mia moglie che ha dormito tutto il tempo e noni me lo sono sparato con mia figlia perché è andata così quindi dicevamo la storia è il terzo punto di forza ora a parlare dei punti di forza cosa è piaciuto si farebbe prima forse a dire tutto qua stiamo dicendo proprio quali sono i punti di maggior forza di un prodotto che effettivamente merita un'attenzione particolare perché è difficile riprodurre qualcosa del genere un'altra cosa che è molto è molto apprezzata dal sottoscritto almeno dal sottoscritto è la pacatezza cioè è difficile vedere un personaggio che urla un personaggio che sbraita se non proprio quando è catturato dalla paura in questo mondo fantastico dove comunque regna l'allegria dove si va a scuola dove c'è comunque ci sono regole che lo dominano però anche la preside della scuola incastonata in un albero una voce magica che cerca di governare il mondo mitologico diciamo che è tutto veramente fiabesco è tutto veramente ben riuscito che dire cosa è piaciuto mi fremerei qui no poi valuterei un attimo passando a cosa non è piaciuto ora direi cosa non è piaciuto cosa non è piaciuto di Oni beh è veramente difficile dire cosa non è piaciuto trovare qualcosa che non sia piaciuto in un prodotto di tanta classe tanta magnificenza artistica qua veramente c'è arte che emerge emerge ovunque solo uno spettatore non so che poco attento uno spettatore che non che non guarda i dettagli che va e si ferma a un aspetto grafico forse a tratti rozzo se poi strutturato così potrebbe non guardare la magnificenza o non trovare l'arte dove effettivamente l'arte c'è e basta è incontrastata incontaminata cioè un prodotto veramente che è difficile sottovalutare ma se proprio dobbiamo trovare un difetto se proprio io devo trovare un difetto perché sono una persona estremamente sgradevole e cerco di trovare difetti ovunque un difetto è quando appare l'essere umano la puntata nella quale unare col suo amico va nella città degli uomini per me è un po' stonata avevo già intuito che il nemico che gli oni fossero gli esseri umani così come per gli esseri umani gli oni sono una figura mitologica avevo intuito che ci fosse questa trasposizione tra il bene e il male dove poi alla fine dei conti il male è il male più grande del mondo quindi noi però fino all'ultimo ho voluto credere che ci sarebbe stato qualcos'altro qualcosa di più raffinato dell'essere umano qualcosa di un po' più ricercato quindi questo aspetto mi ha un po' lasciato perplesso ma si sta parlando in fin dei conti di cosa si sta parlando di un parere personale di un prodotto che sarebbe folle non vedere cioè si sta parlando veramente della follia più totale se voi decideste di non guardare oni al di là dell'età è un 7 e più quindi contestualizzarlo a un 7 e più sarebbe alquanto volgare e subdolo sto parlando di un prodotto che non ha età non ha confini ma lo ribadisco la trasposizione della paura come limo nero che va a trasformare le figure poteva forse essere un po' più dettagliata stiamo parlando di dettagli proseguire forse sarebbe anche abbastanza pesante e andiamo alla votazione andiamo alla votazione si è innegabile come già avete capito dire che oni non mi sia piaciuto sarebbe un'offesa dire questo per me è un capolavoro ognuno poi valuta i capolavori in base ai propri gusti e alle proprie esigenze però qua stiamo parlando veramente di un capolavoro il capolavoro lo ribadisco sotto molti punti di vista dal punto visivo a questa no variazione di colori che vanno a comporre un mondo magico alla contrapposizione dei colori tra il mondo magico e il mondo degli esseri umani che appare brullo appare effettivamente già contaminato la costruzione dei personaggi solida la storia introspettiva che cerca di spiegare poi quali sono da un punto di vista anche i bambini che il mondo va curato che è sbagliato distruggere la natura e che in fin dei conti noi siamo un cancro come diceva la gente smitte in matrix che sta distruggendo il mondo questo no è innegabile negarlo sarebbe folle così come negare la bellezza di one sarebbe altrettanto folle poi i gusti sono gusti ognuno può dire che è un 7 più non guardarlo sono problemi che oggettivamente non mi riguardano cioè io suggerisco di guardarlo e reputo sia folle non farlo ma poi il resto sono cose vostre cioè potete tranquillamente guardare dell'altro e evitarvi di guardare ogni un bel nove e mezzo un nove e mezzo meritato un nove e mezzo che lascia poco spazio all'immaginazione non do 10 per le due sciocchezze che ho detto ma probabilmente lo meriterebbe un film una miniserie estremamente istruttiva per i vostri figli estremamente istruttiva per voi una miniserie della quale si dovrebbe parlare di più mentre invece si parla di The Watcher si parla di altre cose che boh onestamente non vedo il motivo e lo vedete ho fatto anche la recensione non vedo il motivo di parlarne così tanto io per ora vi ringrazio e vi invito a guardare ogni a farmi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate è sempre un piacere stare insieme a voi seppur in modo sporadico per impegni lavorativi ho dovuto abbandonare il reparto giochi uno perché mi ha profondamente deluso e reputo sia inutile continuare a devastare tempo in qualcosa dove è impossibile creare una comunità dove ci sono talmente tanti prodotti che non possono per essere valutati dove le persone hanno perso buona parte della passione che governava quel mondo mi sono dedicato quindi esclusivamente al reparto videoaulico con la speranza di trovare qualcosa di più profondo ogni ne fa parte vi auguro di guardarlo con soddisfazione vi ringrazio auguro a tutti una buona giornata e ciao ciao alla prossima